Ciao ragazzi, oggi di nuovo con tutti noi e con tutti voi Pamela Andres per parlare di tutti i dettagli del Talenti Show, visto che già è iniziato il conto alla rovescia. Ti invitiamo a Pamela, benvenuta! Come stai? Come va? Tutto bene? Come va la preparazione di questo concorso? Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sono emozionadissima, un lavoro, sono stanca, però vale la pena. Dani, manca pochissimo, manca pochissimi giorni, sono venute tante ragazze da fuori, tutta l'Europa, sono venute delle ragazze della Spagna, sono venute della Francia, sono venute un po' da Portugale, sono venute un po' da per tutti. A parte delle brasiliane, italiane, le drag queen, va a essere una sorpresa, veramente un evento che non va a rimanere nella storia, perché veramente sta un po' di tutto, abbiamo mischiato un po' delle ragazze, un po' di qua, un po' di là. L'importante è che la serata sta andando tutto benissimo. Benissimo, e questo è bello saperlo, perché già come dicevo all'inizio è iniziato il conto alla rovescia, quindi già oggi ultimo giorno del mese di novembre, quindi sono dieci giorni che ci aspettano per questo meraviglioso concorso. Dieci giorni, dieci giorni, ancora più ansia, giusto? Sì, ancora più ansia, però sai che già mi manca? Già sta mi mancando questo evento, perché io vivo di questo, mi piace fare questo evento, allora manca dieci giorni, sto qua contando con tutti voi la presenza nel Barra Ondas a Milano, e il numero di contatto, Dani, non possiamo dimenticare, per loro, ancora ci sono tanto che voi prenotare, che voi comparire quella sera, devono chiamare il numero 3509032344, ragazzi. Parlo anche un po' in portoghese, così le ragazze che non capiscono tanto italiane vengono a capire. Meninas, il numero è 3509032344, e così loro possono entrare in contatto anche con noi, anche con il sito, qua che ti passo a te a dare questa novità che già abbiamo iniziato nell'altra intervista. Per me è stato un piacere enorme venire un'altra volta qua, trovarsi qua, voi qua, da piccoli. Anche a me, sinceramente, sai che mi piace tanto parlare il portoghese, sto imparando, sto imparando, sto apprendendo a parlare il portoghese. Infatti volevo anche condividere in spagnolo il numero telefonico, se vuoi, anche in inglese. Sì, bravissimo, bravissimo, mi fa piacere. Perfetto, in spagnolo, per a che tengan comunicazione, il numero dove si puoi comunicare per partecipare al Talents T-Show è 3509032344. Se vuole anche in inglese? Come no. Perfetto, se vuoi partecipare al Talents T-Show, dovete scrivere a noi, per Whatsapp, a questo numero numero 3509032344. Vi invito a te. Quindi, Pamela, così abbiamo certi idiomi qua e quindi potete vedere che sono tantissimi artisti dall'estero che si daranno riunioni in questo concorso. Già sono dieci giorni, dieci giorni. Sì, dieci giorni, dieci giorni siamo tutti in ansia, le ragazze già sono tutte pronte, ci sono qualcuna che ancora devono iscrivere, perciò c'è lì il numero che sono un'altra volta, 3509032344. Perché ancora ci sono le ragazze che lasciano per l'ultima ora e mancano ancora dieci giorni, ce la fai a si iscrivere. Ancora dieci giorni, ricordatevi, dieci giorni inizia il Conto della Rovescia per il Talents T-Show, dove potete mostrare il meglio del meglio di tutti voi. Non perdetevi questo appuntamento che sarà a 10 dicembre nei Barahondas a Milano. Benissimo, al Barahonda Disco Club di Milano il 10 dicembre. Un abbraccio, ci vediamo! Grazie a tutti!